Ragazzi prima di cominciare vi voglio dire che oggi avrete ben due episodi di The Forest Ebbene si perchè ho registrato una lunga sessione di gioco e quindi è venuto fuori un episodio abbastanza lungo e l'ho diviso in due parti Quindi questa qui è la prima parte e oggi avremo la seconda parte sempre di questo episodio alle ore 15 e 30 Mi raccomando vi aspetto tutti qui sul canale Non dimenticate di lasciare like, io vi auguro una buona visione Ben! E' bella ragazzi qui sul libro e ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati su The Forest Ebbene si siamo qui nel bel mezzo della foresta in piena notte La scorsa volta eravamo rimasti esattamente qui che ci eravamo addormentati Che è sto suono? Comunque si la scorsa volta eravamo qui che dormivamo e niente ci siamo svegliati nel bel mezzo della notte Perché il nostro mino non aveva nulla da fare E quindi dice ma svegliamoci di notte così vagheggiamo in giro con quei brutti scemi lì che ci sono E difatti ho una paura tremenda che qualcuno mi salti addosso da un momento all'altro Ma andiamo in ordine Allora punto primo non so dove sto andando perché io non vedo assolutissimamente nulla E comunque ci tengo a scusarmi se la scorsa settimana non è uscito il video su The Forest appunto Ma è uscito il DLC di GTA e quindi la settimana si è riempita con il DLC di GTA E seconda cosa che vi voglio dire è che da quest'episodio in poi vorrei aumentare la portata degli episodi Quindi farne più di un episodio a settimana ma magari farne anche due o tre episodi a settimana per dire Vedremo un attimino con il tempo come si evolverà la situazione Comunque in quest'episodio Perché sto morendo di freddo tipo? Ehm non lo so allora ho poca vita non vedo nulla sto morì di fame di freddo aiuto Vorrei raggiungere casa mia che dovrebbe essere esattamente lì ma non so dove diamo Ah ecco qua 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 ok bene bene allora qui ci sta il nostro aereo Entriamo all'interno così almeno ci abbiamo da mangiare Almeno mangiamo qualcosina che male non fa E comunque ci abbiamo questo piccolo problemino qui E comunque si adesso aspettiamo un attimino che si fa giorno Perché andare a giro di notte è completamente inutile Non si vede nulla e moriamo e basta Sto morì di freddo Comunque si rega mi raccomando superiamo assolutissimamente i 150 likes Se volete altri video su The Forest se volete che la serie continui Mi raccomando supportate la lastra grande Lasciate sto like Mi raccomando controllate che sia andato perché YouTube lo bugga E inoltre condividete se volete che questa serie vada avanti Quindi il vostro supporto è il massimo che potete dare Se volete che questa serie continui appunto Allora eh il giorno ancora tarda ad arrivare purtroppo Ma se io accendo il fuocherello? Voi dite che lui si riscalda se io accendo il fuocherello? Semprerebbe di sì sempre a funzionare eh Però oddio stare qui nel bel mezzo della foresta Con quei brutti ceffi che vanno in giro Diciamo che non è la situazione più ambiziosa Dove un essere umano vorrebbe ritrovarsi Che è successo? Eccala seppure è rotto il fuocherello Come non detto entriamo ciao Cosa sono queste? Non puoi più portare i medicinali? I medicinali credo servano per curarsi no? Cioè nel senso Per il momento io non ho avuto grandissimi Inceppi con sti tizi qui che vanno a giro no? Però credo che arrivata una certa sti tizi inizieranno a menarci di brutto E quindi boh perderemo vita o non lo so Non credo staranno a vita lì a guardarci tranquilli Mentre noi scorazziamo in giro per la foresta Sarebbe bello ma non credo sarà possibile Allora in questo episodio andremo a fare ben due cose Come prima cosa andremo a creare tutto un muro attorno alla nostra base E dopodiché metteremo anche una casa più grande Come da vostro consiglio Perché mi avete consigliato di fare ciò E io accetto la grande i vostri consigli Anzi vi ringrazio Se avete qualcosa di consigliarmi consigliatemela assolutissimamente Perché è molto importante Allora i muri mi avete detto i muri Muro è personalizzato Questo qui dovrebbe essere praticamente il muro Eh sì devo tracciare un perimetro Allora facciamo Attenzione che mi vengono gli infatti Mannaggia a me Allora facciamo che tracciamo tutto l'aereo Perché è comodo no? Allora eh devo tirar lungo così Bene Quindi io vado dritto così e faccio il muro quanto voglio Cioè e io lo voglio grande fino a qui Ok rilascio con E Bene Ah e mi ha tracciato tutti i legni che servono per poter fare sto cosa Ok dai Porca vacca se sono una vagonata di legno eh Ovviamente lo andiamo a fare anche da questa parte Magari che si estende fino a qui sotto Ok adesso scendiamo nuovamente per tutto l'aereo Qua dovrebbe andare bene e allunghiamo fino a qui E chiudiamo il tutto Perché non va? Perché c'è l'albero nel mezzo Vabbè dai allunghiamo che vi posso dire Facciamo così e così E il gioco è fatto ragazzi Abbiamo finito Perfetto Anche se abbiamo finito è un parolone Allora questa qui sarà praticamente tutta la nostra zona Ho deciso di inclobare l'aereo all'interno della mia base Perché comunque è pieno di robe interessanti Ogni volta mi sembra di aver capito che respawni il cibo a caso E anche i medicinali e tutte queste belle cose qui Quindi non male no? Quindi allora iniziamo già a scavare qui la legna Prendiamoci tutta la legna possibile ed immaginabile Per costruire sto mega muro Roba che Trump può accompagnare solo ragazzi E niente buon divertimento a me a spaccare tutti sti alberi Perché ce ne vuole Mi sembra di aver capito che ogni pezzo di muro voglia 5 pezzi di legno Quindi ecco sono un bel po' eh Sono veramente uno sproposito raga Dovremmo abbattere la foresta Ci metteremo una vita Io ve lo assicuro E che problema c'è noi? Lo facciamono Magari non lo completeremo tutto in questo episodio E lo completiamo tipo dopo Perché come già detto prima Oggi andremo anche a ricercare Questo orologio che ci serve per poter creare La bomba per far esplodere quella zona Che abbiamo trovato l'altra volta Perché sono veramente molto curioso di vedere Cosa si trova all'interno Ovviamente credo che facendo sto muro Non dovremmo più avere problemi con quei tizi lì Nella nostra base loro non possono entrare C'è il muro Se passi il muro sei morto Cioè nel senso voglio dire proprietà privata Allora iniziamo a piazzare sti primi tronchi qui Che ho già preso va E il primo pezzo di muro l'abbiamo completato Mamma mia rega quanta legna ci vorrà E quanto tempo ci vorrà E questo è il problema Quanto tempo ci vorrà Però vabbè se non altro spero che il risultato finale sia un qualcosa di utile Non inutile Ma da quello che mi avete fatto capire voi tramite i commenti Ciò dovrebbe essere un qualcosa di veramente molto utile Per fortuna non si sono ancora fatti vedere quei tizi lì Ed è meglio per noi Più tardi si fanno vedere meglio E allora ci stanno altri tronchi qui a giro? Prima ne avevo visto uno e che l'ho perso di vista completamente È un po' un casino Ecco c'è troppa erba Credetemi converrebbe giocare con i dettagli grafici veramente al minimo Così non c'è erba non c'è nulla Però così andremo a distruggere praticamente Tutta la bellezza di questo gioco qui Perché praticamente fare ciò significherebbe rimuovere tutti gli alberi Tutta l'erba per terra sarebbe brutto E poi voglio dire ho comprato 700 euro di scheda video Sicuramente è ovvio che gioco con dettagli massimi eh Boom Però che bello Già si scortica da solo Automatico Che belli sti alberi moderni eh Su The Forest 2 voglio gli alberi RGB eh Mi raccomando Se non mettono gli alberi RGB io non compro il gioco Andiamo 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 a lavorare Spacchiamo la legna come un Eeeh Boscaiolo Non so che cosa c'entra Però va bene Quando non sai che dire ti stai disperando a distruggere alberi Che non si vogliono neanche intagliare Ma voi dite che se cade sopra il muro cadono cose brutte? Mi so di sì Uh Incredibile ragazzi Attenzione Brivido Ho detto vuoi vedere che adesso mi rimane a vita St'albero lì messo coricato Perché non si smonta E invece no Ho sottovalutato sto gioco Che ne dovrebbe essere un altro di tronco in giro eh Però non so dove diavolo è finito Ah qua E anche quest'altro pezzo è finito Per fortuna che siamo caduti in un'isola con la foresta Immaginate se eravamo in un'isola deserta senza alberi e senza nulla Praticamente sarebbe stata la nostra morte definitiva Facciamo riposare un attimino qui il nostro mino Perché si stanca facilmente Il bufetto qui ha poco da fare Ho appena visto qualcosa che io non volevo vedere e che non dovevo vedere assolutamente Mi è appena saltato un pezzo di muro per quanto un albero gli è caduto sopra Ma io non ci posso credere ragazzi Mannaggia a me pure Ma dai su ma prima non si ero distrutto il muro perché Io ho il rischio di diventare pazzo Rega vi giuro eh Se non lasciate like adesso io divento pazzo probabilmente Allora a questo punto mi conviene Prima tirare giù tutti gli alberi che ci stanno all'interno della mia zona E dopodiché piazzare il muro O se non altro piazzare il muro da questa parte Perché non so se sti alberi despownano O cosa Boh perché i tronchi sono per terra Ma se despownano Cioè lavoro inutilmente no Tanto vale prenderli e piazzarli magari dall'altra parte Vediamo un po' Che rabbia rega mi si è spaccato il muro Voi non potete capire che rabbia Che fastidio Hashtag save the wall Rega qui sotto nei commenti Hashtag save the wall Sto qui che poi è affaticato Che manco mio nonno Vi giuro rega mio nonno che ha 84 anni Non è così affaticato come il mio mino Dai eh mannaggia a me mi piglio sempre Infatti oh Ci vorrebbe un compagno di viaggio Rega siamo praticamente soli soletti Stiamo crea poi la regia qui Ma va bene voglio mettere la casa quella grande Sapete quella che abbiamo visto nello scorso episodio Quella che 80 legni ci servono 60 Una roba incredibile pure lui Se ci facciamo quella praticamente abbiamo la magione Ma una signora magione anche direi io eh Ok perfetto rega eccoci qua nuovamente sul campo di battaglia Sì voi starete dicendo Perché nuovamente? Per il semplice motivo che io dall'ultima clip Beh E dai mi sono svegliato di nuovo nel bel mezzo della notte Perché? Comunque si stavo dicendo Dall'ultima clip che praticamente ho registrato Sono passate parecchie ore Perché ho avuto degli impegni E quindi ho dovuto staccare la registrazione Ma continuiamo adesso che problema c'è? Ovviamente mi compare che posso dormire Indovinate dormo un po' E mi risveglio nel bel mezzo della notte Esattamente come è già successo Nello scorso episodio Il nostro omino a quanto pare soffre di insomnia Però va bene Ok qua arriva l'albero Rega ma non si può fare veramente nulla Io non vedo nulla Nulla E se c'è una cosa che mi dà profondamente fastidio È che ci stanno quei tizi a giro E a me questa cosa rega non piace assolutamente Ma proprio zero Comunque vedete che ho ragione Sì si ricaricano praticamente Boh non so per quale motivo ma si resettano E credo che tutto ciò ci avvantaggi parecchio Perché se abbiamo queste belle cosine Che ogni volta che noi dormiamo si resettano Beh ci danno una grandissima mano Perché abbiamo bibite infinite praticamente E anche snack infiniti che ci aiutano tantissimo Difatti abbiamo 7 e 8 Di medicinali ne abbiamo pure un botto Credo che uno Posso prenderlo Vediamo Ma fa qualcosa? Boh non lo so ne ho mangiati un paio ma Ripristina la salute ma A me la salute comunque sia sempre essere rimasta come prima Però Allora aspettiamo un attimino che si faccia giorno E dopodiché Andiamo immediatamente A esplorare un pochettino in giro Cosa ci abbiamo Perché comunque sia dobbiamo trovare il Rolex Lì per poterci permettere di fare il L'ordigno esplosivo E di conseguenza l'andremo un attimino a cercare Non so minimamente dove trovarlo sinceramente Però boh spero di trovarlo abbastanza in fretta Perché secondo me facendo esplodere Quel piccolo buco lì sotto Avremo grandissime novità Tante sorprese Che comunque si ci permetteranno di andare avanti nel gioco Però il problema è che il giorno non arriva mai Senti ma allora ma se tipo qui dove è caduto il muro vado a creare una porta Perché effettivamente creare una porta non credo sia una brutta idea no? Visto che non abbiamo ancora creato una porta a tutto ciò Comunque io vi giuro mi sembra assurdo Ma non è ancora venuto nessuno Cioè Ok qua abbiamo la porta Perfetto Nei primi episodi i nostri amichetti erano molto ma molto più agguerriti Adesso hanno un pochettino perso Non lo so la voglia di fare Oppure hanno semplicemente detto Ehi questo è troppo forte Lasciamolo stare Anche se non ho ucciso nessuno di loro Però va bene E l'albero va giù Bom bim bom 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 Tra l'altro guardando attraverso sti cosi Ho tipo una night vision Boh È tipo un trucchetto E non vedo nessuno Ma io ho sentito un brutto suono Brutto brutto suono Allora il giorno sta arrivando A questo punto io direi Andiamo un attimino a giro Non vediamo ancora nulla Però magari Non si sa Eh per ipotesi Possiamo anche trovare qualcosina che ci interessa Allora il giorno sta arrivando